Elie Schlein è la nuova segretaria nazionale del Partito Democratico. Lo ha sancito l'esito delle primarie del PD svoltesi questa domenica, la prima donna con questo ruolo e che guiderà il partito dopo Enrico Letta. Elie Schlein, a seguito delle elezioni del 25 settembre 2022, è stata eletta deputata della Repubblica Italiana, ma ha anche ricoperto precedentemente l'incarico di europarlamentare dal 2014 al 2019. In Sicilia spoglio praticamente ultimato appare netto il successo di Elie Schlein con una percentuale del 57,3% contro il 42,7% di Stefano Bonaccini, si legge nel comunicato stampa del PD siciliano inviato a fine serata. Su un totale di più di 55.000 votanti, questi sarebbero risultati dunque nelle varie federazioni provinciali. In quella di Siracusa Elie Schlein ha ottenuto 2.786 voti, mentre il candidato Stefano Bonaccini 2.172. In quella di Palermo 6.487 per lei rispetto ai 3.658 del suo avversario. Enna 4.102, Bonaccini 2.385. Catania per Schlein 6.299 voti e per Bonaccini 3.027. In quella di Caltanissetta 2.945 per Elie Schlein e 1.963 per Stefano Bonaccini. Trapani ancora in testa con 2.167 voti, mentre 1.650 per Stefano Bonaccini. Maggiori preferenze invece per Stefano Bonaccini nelle federazioni provinciali di Agrigento, dove al momento dell'invio del comunicato stampa con i dati mancavano ancora alcune sezioni e il candidato si attestava 2.801 voti rispetto ai 2.493 di Schlein, Ragusa 2.687 contro 1.356 della candidata e infine Messina, Bonaccini 3.062 voti e Schlein 2.809.